si sono qui pronto per commentare l'ultimo minuto e mezzo circa di Sassuolo Udinese un risultato di 0 a 0, a un certo punto ero indeciso se vedermi temati sopra il cielo o le prime dieci puntate di Beautiful, la serie originale dell'anno 80 e pensavo se fosse un po' più sonnifero o il Tavor il Tavor o qualche altra sostanza di origine oppiace comunque, mamma che partita brutta, mamma mia una delle più brutte per l'amor di Dio Udinese quadrato ha difeso bene anche De Paul, ha fatto un ottimo lavoro difensivo però raga, mamma mia, mamma mia che pena, non se ne è salvato mezzo mezzo un Sassuolo che è un Berardi evanescente Caputo isolato, tra orecchi picchiava destra e sinistra ha giocato bene Ferrari, devo dire, il difensore centrale in coppia con Ayan mi è piaciuto, devo dire che mi è piaciuto sono mancati gli esterni Rogerio qualcosa nel primo tempo ha provato a fare nel secondo tempo poi è entrato anche Muldur ma anche lui poco, poco poco qualche sgroppata, ma tanti errori di precisione Marlon nel primo tempo ha fatto quello che poteva c'è neanche lui, ha fatto una grande partita però ecco, mi ha sorpreso in negativo questa partita al Sassuolo perché l'Udinese, immaginavo, quando hai Okaka in attacco non è che ti possa aspettare proprio l'inventiva quando non c'è un lasagna ma un pussetto che ha fallito clamorosamente anche in Inghilterra e puoi capire che non ci si può aspettare un attacco allucinante una prestazione allucinante De Paul si è l'unico ma poca roba ha fatto un buon lavoro difensivo però De Paul, devo dire ma proprio come garra, come proprio cazzimma in campo De Paul, raga io non lo vedo mai per un top club ma mai nella vita ma a inizio stagione intanto Muldur paradeviata da Zegelar non so, l'ho visto bene intanto l'arbitro fischia 0-0 risultato finale 1-1 tra Sassuolo e Udinese dicevo non ci si poteva aspettare una grande fantasia a un De Paul appunto dicevo che avrei detto inizio anno potrebbe essere da Milan ma neanche da questo Milan perché il Milan è al di là della prestazione orribile di ieri però ragazzi il Milan è una squadra è una bella squadra e ora De Paul ma neanche lì poi non si capisce se sia mezzala se sia mezza punta se sia un esterno non so però voglio dire in questa partita è uno tra quelli che ha giocato meglio consigli qualche volta ha tentato di ripetere quel famoso autogol che si è andato a passare la palla indietro che ha surpassato la porta ma ripeto veramente poca roba poca roba e io non so l'Udinese non so in sera con giocatori come Arslan come Zegelar come Pussetto raga una volta prendeva Sanchez prendeva Quadrado prendeva Isla aveva Pinzi Di Natale Cogliarella prima ancora ha avuto Appia che era un buon giocatore ha avuto Birov ha avuto Poggia ha avuto Amoroso e ora deve avere Gianni Chedda Bertotto vai boomer mode oggi ragazzi sono molto boomer e mi trovo con Pussetto con Becao con Zegelar con Okaka con Arslan vabbè se si vuole affrontare così la serie A si può però poi se si retrocede o se si arriva all'ultima giornata l'ultima due giornate per rimanere in serie A questa è la buonissima via e devo ringraziare Gotti perché Gotti si sta dimostrando un buon gestore un buon psicologo secondo me è poco allenatore cioè nel senso non è il vero allenatore che impone il suo stile di gioco però è molto psicologo molto intelligente sa portare avanti il gruppo sa motivare sa dare quella cattiveria che la squadra in sé non ha secondo me mentre il Sassuolo vabbè però ci può stare a fare una prestazione no del Sassuolo un udinese che gliel'ha incartata bene però insomma non si può dire bene ai punti l'ha più meritato l'udinese il pareggio che non il Sassuolo perché l'udinese squadra di minor livello che ha lottato ha ingabbiato bene questa macchina offensiva del Sassuolo i tre difensori centrali hanno annullato totalmente Caputo che poi magari Caputo poteva anche non essere in gran giornata però voglio dire ai punti così è stata ovviamente spero di dare un video che vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace condividete seguitemi sui social per il discorso dell'applicazione di piattaforma viola dove metto tutte le news e se volete iscrivetevi anche al mio secondo canale Lavoro Virgo Extra dove parlerò di tutto tranne che di calcio quindi vi mando un abbraccione vi dico una buona serata e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao